Ciao gentaglia, sono ShotaHateYou e questo è Breaking Italy, lo show che è in onda da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Torno velocemente su un argomento trattato ieri e poi non ne parlerò mai più, almeno spero che non ci sarà più modo di parlarne, non solo per chi sta reagendo male a questo argomento, ma per il come si sta affrontando questo argomento. Parliamo nuovamente del ministro Chiang, o Chiang, non ho ancora ben capito come lo si dovrebbe pronunciare, comunque questa donna. E parliamo di nuovo di razzismo, il senatore Calderoli di nuovo si è scusato dicendo No, ma io non volevo offenderla, non era un insulto razzista, io chiamo animali tutti quanti e la stessa cosa è arrivata da una parlamentare del Movimento 5 Stelle. E più o meno una cosa simile stanno dicendo tutte le persone che hanno intenzione di giustificare il razzismo. Sappiamo benissimo, infatti, se abbiamo un quoziente intellettivo superiore a 16, che fare parallelismi tra cose diverse e stupido è comunque l'insulto, a prescindere non è tollerabile. Se domani un politico importante, se domani Bersani impazzisce e dice a Calderoli sei un coglione, questa cosa va assolutamente condannata, perché la politica non può continuare a imbarbarirsi così. Però non è il punto quello, non è la stessa cosa. Un insulto razzista è un insulto razzista. Inoltre vedo che molti faticano a dividere le cose come al solito. Da una parte c'è il fatto che la Kienge è una donna in gamba, e io riesco a dire che è una donna in gamba, anche se per buona parte non condivido le sue politiche. Però potrei anche dire tranquillamente non è una donna in gamba, secondo me, ma questo non c'entra a nulla con il colore della sua pelle. Quella è tutt'altra faccenda. Lei è lì perché è una persona in gamba. Il solo fatto che in Italia la mera presenza di un rappresentante delle istituzioni, nero, generi tutto questo casino, e tutta questa ondata di razzismo condito di ma non per essere razzisti, ha un significato. Significa che non siamo abituati a vedere persone del colore della pelle diverso dal nostro e a considerarle nostre pari. E, tanto per intenderci, considerata la storia della Kienge, che comunque è italiana, ricordiamoci che è una donna italiana, credo che possa pisciare in testa alla maggior parte di noi. Non vedo l'ora di farvi sapere questa cosa, che conoscevo già da un po' di tempo, ma adesso è approdata su Indiegogo, da circa una settimana. Parliamo di un'azienda completamente italiana che sta facendo un casino di fatica per riuscire a far emergere un prodotto che, per farvela molto breve, assomiglia moltissimo a Google Glass. Il progetto si chiama Glass App e sono un paio di occhiali per la realtà aumentata che si interfacciano con lo smartphone. Quindi una cosa molto simile a quella di Google, ma con delle differenze. principalmente per il fatto che questi sono degli occhiali e non un oggetto che si mette vicino agli occhi. L'utilizzo primario di queste cose sarebbe quella di mostrare sullo schermo dei messaggi e delle informazioni che ci arrivano direttamente dallo smartphone. Quindi non quello di fare foto, non quello di fare video, non quello di accettare comandi vocali, né di condividere le cose sui social network. È semplicemente un appendice del proprio smartphone, che permette quindi di vedere le mappe, di leggere i messaggi, di leggere le mail. E la cosa interessante è per vari aspetti. Quindi innanzitutto questi affari hanno delle lenti, lenti che ipoteticamente potrebbero essere anche graduate. Non è ancora sicuro sino a che livello possono essere graduate, però ora si parla semplicemente di correggere lievi problemi alla vista e niente più. Però è già qualcosa. Secondo punto, i dati appaiono davanti agli occhi, proprio nel campo visivo. Mentre per Google Glass è ormai resaputo che lo schermo rimane sul sopracciglio, quindi bisogna ogni volta guardare in alto per accedere alle informazioni. Anche in questo caso è una cosa differente. Punto 3, il prezzo. Perché questi occhiali, che io sinceramente spero sfondino, sarebbero un'alternativa molto economica a Glass. E sinceramente credo abbiano addirittura un approccio più positivo rispetto a quello di Google, in merito al fatto che sono occhiali, devono essere belli. Infatti i produttori fanno sapere che questi sono semplicemente il primo prototipo, ma hanno intenzione, lavorando assieme ai grandi brand dell'ottica italiana, che poi sono i leader mondiali, nella creazione di occhiali che non sembrino cose strane, sembrino semplicemente occhiali da sole e occhiali da vista. Il che secondo me è fantastico, perché è segno del fatto che si sta compiendo un altro passo avanti nel mondo tecnologico. Un grandissimo passo avanti lo si è fatto con la creazione dell'iPhone e la successiva creazione dello smartphone, come lo conosciamo adesso, che è praticamente in un paio d'anni diventato qualcosa di rivoluzionario, che peraltro non si è nemmeno completamente assestato. Poi il tablet, che ha preso il posto di tantissimi altri device, e adesso questa, la possibilità, che in un prossimo futuro moltissime persone siano in grado di vivere in una situazione di realtà aumentata. e questo è possibile soltanto quando la tecnologia diventa accessibile a tutti, il che significa che deve costare poco. Questi occhiali sono stati creati, sono pronti per la distribuzione apparentemente, e per il lancio della distribuzione è stata iniziata una campagna su Indiegogo, che permette di contribuire nel raggiungimento dei 150.000 dollari previsti, e se si vuole la versione normale, si pagano semplicemente 200 dollari. Altrimenti si va via via salendo. Vi lascio il link in descrizione, e auguro il meglio all'azienda italiana che ha lanciato questo progetto. E parlando sempre di realtà aumentata, apparentemente Apple potrebbe rimanere indietro in questo nuovo trend, dopo essere stata con lei che invece ne ha lanciato tanti di trend. Infatti la risposta a Glass, che si ipotizzava essere l'iWatch, potrebbe addirittura non vedere mai la luce. Il device che Apple starebbe progettando in super segreto, ovvero l'orologio di Apple, avrebbe infatti degli enormi problemi, almeno a quanto rivela il Financial Times. E per risolvere i problemi in tempo, apparentemente Apple avrebbe lanciato una massiccia campagna di assunzioni di ingegneri, per far entrare menti e idee fresche all'interno del progetto. Ma appunto queste misteriose fonti del Financial Times, che poi sicuramente qualcuno che lavora interno ogni tanto, entra un attimo in bagno e, pronto Marco? Ci fanno sapere che Tim Cook non è affatto convinto del progetto, e potrebbe ucciderlo prima ancora che questo venga annunciato. E ora parliamo del DataGate, che fine ha fatto Edward Snowden? Non se ne parla più, invece sì, se ne parla moltissimo, solo che su Breaking Italy non ho trattato la notizia. Perché non c'era nulla di interessantissimo da dire, semplicemente vi avrei dovuto dire ogni giorno Forse Edward Snowden va in Argentina? No, in Argentina non va più. Forse va in Ecuador? No, in Ecuador non va più. Forse Edward Snowden va in Molise? No, il Molise non esiste. Perché tendenzialmente il calvario dell'uomo in questo momento è proprio questo qui. Ovvero, si ipotizza che sia ancora chiuso all'aeroporto di Mosca, anche se le notizie sono molto contrastanti. Il problema è che Snowden inizialmente aveva detto Ok, vado in Russia. Però poi Putin gli aveva detto Ok, noi ti diamo asilo, però devi smetterla di rivelare i segreti dei nostri alleati statunitensi. Ok, Snowden ha detto Proprio no, me ne vado in Sud America. E tutti i paesi sudamericani, compreso il Molise, hanno detto Sì, ti ospitiamo noi. Però poi gli Stati Uniti avrebbero, ipoteticamente, iniziato un'opera di sottili minacce spaventando questi stati sudamericani che uno a uno hanno ritirato la volontà di dare asilo politico all'uomo. Conseguentemente quello che Snowden si ipotizza farà nelle prossime ore sarà accettare la proposta di Putin e trasferirsi in Russia per sempre, probabilmente. E quindi questo, Gentaglia, secondo me questo uomo rimane comunque un eroe. Non tanto, o comunque non solo per quello che ha fatto ma perché davanti alla possibilità di sto zitto, non dico niente e continuo a vivere la mia vita tranquillo tranquillo, oppure faccio questa cosa e do questa svolta terribile alla mia vita ha scelto la seconda ipotesi nel nome di un suo ideale più alto che poi può essere condiviso o meno. E in ultimo parliamo di Miss Italia e so che solleverò un piccolo polvero, Gentaglia, uno di quei polverini della Gentaglia perché non so verso di voi, però verso il mondo mi sembra di avere una posizione molto impopolare. Parlo di Miss Italia, dell'enciclica di Laura Boldrini scritta a favore della chiusura di Miss Italia. Laura Boldrini avrebbe infatti apostrofato come una scelta civile e moderna quella di chiudere Miss Italia che ovviamente non devo spiegare a nessuno cosa è. Le ragioni di questa posizione così forte della Boldrini sarebbero quelle di voler innanzitutto rivalutare il ruolo della donna in Italia. Uno straccio del suo discorso ad esempio dice credo che ci si debba rallegrare di una scelta moderna e civile. Spero che le ragazze italiane per farsi apprezzare possano avere altre possibilità che non quella di sfilare con un numero. Le ragazze italiane hanno altri talenti. Il che si colloca in un discorso molto ampio ottenuto appunto dalla presidentessa della Camera che sottolineava, anche se non so da dove arrivino questi dati, come solo il 2% delle donne presenti in tv siano donne parlanti con delle idee, con dei ruoli attivi e il restante 98% sia invece semplicemente lì come figura. E io personalmente non sono affatto d'accordo, Gentaglia. Non su questi dati, anche se mi sento di criticarli perché mi sembra che in tv in realtà sempre di più la presenza femminile attiva e di qualità esista e conti. Ma non è questo il punto in realtà. Il punto è tutto su un'altra cosa in realtà e non è nemmeno su Miss Italia perché io Miss Italia non l'ho mai guardata, non ho mai visto una puntata di Miss Italia. A parte i vari pezzettini su internet tipo evviva quest'anno vince questa ragazza, play video, guarda ragazza. E Miss Italia per shooter finiva lì. Ma se la si vuole davvero buttare sulla parità di genere non è impedendo un certo tipo di manifestazione che la si spunta. innanzitutto perché il mondo è molto vario e ci sono vari tipi di persone che vogliono fare vari tipi di cose. A Miss Italia nessuno è stato mai obbligato ad andare, che io sappia. Sono tutte ragazze, migliaia e migliaia di ragazze che vengono da tutto il paese che hanno intenzione di fare quello, hanno intenzione di sfilare. E secondo me nello sfilare non c'è nulla di male. Perché nella bellezza femminile, nella bellezza del corpo femminile secondo me non c'è nulla di male. Non è una cosa tabù che bisogna allontanare. Perché di nuovo in Italia c'è questo problema. Se sei bella non puoi anche essere intelligente. Se vuoi essere presa sul serio non puoi essere bella. Mentre questa cosa non è affatto un problema. Se io fossi bellissimo, se avessi un fisico statuario, dei bellissimi lineamenti, delle braccia così e dicessi comunque delle cose intelligenti, non ci sarebbe nessun problema. Sarei un ragazzo intelligente eppure bello. Invece la donna non può essere entrambe le cose. Non è possibile che in mezzo a Miss Italia ci sia il nuovo genio dell'astrofisica. Se vuoi essere intelligente devi per forza essere come Margarita Huck. Non puoi essere anche una donna attraente. E bannare Miss Italia in un certo senso. Rinforzando questa idea. Quindi donne dovete essere intelligenti, non belle, non attraenti, non prendervi cura di voi stesse. Non è sano e non è naturale. Perché alcune cose sono connaturate nella natura di noi stessi. Il che ad esempio per me significa che sono fortemente attratto dalle donne intelligenti, dalle donne colte, dalle donne spiritose, dalle donne sicure. Ma l'attrazione iniziale non ha nulla a che fare con queste cose. Quindi non vedo per stare alla gente e dico Ehi guarda quanto intelligente è quella! Non c'è nulla di male nel sentirsi attratti da qualcuno per il proprio aspetto. Perché siamo fatti così. L'apprezzare l'aspetto degli altri senza essere squallidi ovviamente di nuovo secondo me è una cosa normale. Inoltre ripeto queste ragazze andavano lì per un motivo andavano volontariamente per un motivo. È stupido impedirglielo perché se una donna vuole fare la modella ad esempio non è che se le chiudi Miss Italia si metterà a studiare giurisprovenza. Se già studiava legge continuano a studiare legge come avrebbe fatto se voleva semplicemente farsi vedere per il suo corpo e tu glielo impedisci lì lo farà da qualche altra parte. Quindi gentaglia fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti perché tutto il mio discorso alla fine si può concludere in una donna deve avere sia il diritto di essere un individuo intelligente e indipendente e istruito ma allo stesso tempo di avere quello sacrosanto di shake that ass e di essere rispettata per entrambe le cose e non discriminata per nessuna delle due. Questa è vera parità altrimenti è talebani al contrario. E questo gentaglia è tutto quello che vorrei dirvi per oggi grazie per aver guardato. Qui c'è Luca che è il nostro alfiere di oggi e sotto trovate la puntata di Parliamone che oggi è stata pubblicata tardissimo perché ho avuto milioni di problemi del montaggio se l'avessi pubblicata come inizialmente era avreste visto semplicemente un lunghissimo schermo nero che sarebbe durato per sempre che può valere può avere un valore artistico la cosa ma anche e soprattutto no. Quindi ci vediamo domani alle 18.